Buon pomeriggio, grazie a te Presidente e grazie a voi per organizzare questa agora, questa rinascita della filosofia che però è anche rinascita della cittadinanza in queste piazze, in un momento in cui la Repubblica italiana ha senz'altro un grande bisogno di rinascita della agora e dello spazio pubblico. Comincerò delineando la scena in cui nasce la riflessione sull'ecosistema che è la parola che mi è stata assegnata come spunto di riflessione oggi e poi vi racconterò brevemente una storia ed è attraverso le pieghe, le svolte di questa storia che cercherò di fare emergere alcuni pensieri filosofici e alcune considerazioni epistemologiche. La scena. La scena è l'origine della scienza moderna, 500 anni fa, circa. Nella storia della scienza moderna si intrecciano di fatto due storie distinte, spesso contrastanti fra di loro. Da un lato abbiamo la storia della scoperta e dell'esplorazione dello spazio profondo, dall'altra parte abbiamo la storia della scoperta e dell'esplorazione del tempo profondo. L'esplorazione dello spazio profondo prende le mosse e raggiunge i risultati di grandissima portata in un periodo di tempo molto ristretto, quello che va simbolicamente, dico, dal 1543 al 1609-1610, stretto fra la data di pubblicazione di tre libri importantissimi per la storia della scienza e per la storia della filosofia moderna. Nel 1543, infatti, Niccolò Copernico pubblicava il De revolutionibus orbium celestium, mentre, 60 anni o poco più dopo, nel 1609 Giovanni Cheplero pubblicava l'Astronomia Nova e nel 1610 Galileo Galilei pubblicava il Sidereus Nuncius. Cosa succedeva allora in questi decenni? In pochi decenni, allora, non solo si infrangono le cornici materiali e le cornici simboliche delle sfere celesti, non solo si scopre che anche il Sole e la Luna sono corruttibili come la Terra, non solo si scopre che il sistema solare è popolato da moltissimi corpi non previsti e non immaginabili nella visione cosmologica tradizionale, come i satelliti, le comete, gli asteroidi. Allora accade molto di più, inizia a delinearsi un'idea, l'idea che il nostro sia soltanto uno fra tanti sistemi solari, forse fra infiniti sistemi solari. Si delinea l'idea che il Sole sia una stella media fra tante altre, che molto probabilmente anche queste stelle abbiano tanti pianeti come compagni di viaggio e questo peraltro noi lo abbiamo in qualche modo empiricamente soltanto da pochi anni, alla fine del ventesimo secolo, alla fine del nostro novecento. Ma cosa accade? Accade anche che lo spazio si dilata e si dilata assai rapidamente. Agli occhi di molti appare persino infinito e comunque i suoi limiti, seppure vi sono, sono assai lontani dalla scala delle esperienze umane. Un grande storico delle idee del novecento, Alexandra Coire, ha riassunto nel titolo stesso di un suo mirabile libro quello che accade in quei pochi anni e accade non solo per l'astronomia ma accade anche per l'antropologia, cioè per l'autorappresentazione che l'uomo ha avuto dall'ora in poi della propria condizione nella natura e cioè il passaggio dal mondo chiuso all'universo infinito, da un mondo chiuso dal cielo delle stelle fisse, lì, visibili, vicine a noi e che si pensavano inventariate ormai in modo pressoché definitivo, immutabili, con al centro immobile la terra, all'universo che viene definito dall'ora in poi infinito. Attraverso i racconti delle idee, nei libri che vi ho citato, dei grandi pionieri Copernico, Cheplero, Galilei. L'altra storia, al contrario, per tutto il Seicento in Occidente, nessuno dubita, ma quando dico nessuno, dico nessuno nella comunità scientifica, non solo nella comunità dei teologi, dei filosofi, nessuno dubita per tutto il Seicento che la cronologia biblica dia un resoconto adeguato della storia e del tempo del cosmo. Il tempo della storia, il tempo del cosmo, il tempo della storia umana, della terra, del cosmo, è assai ristretto e persino comparabile al volgere delle generazioni umane. La data dell'origine, dell'unica origine, è collocata intorno al 4000 avanti Cristo. La creazione spiega tutto. Nell'universo non vi è letteralmente tempo per una storia naturale. Nel mondo, cioè dell'inizio della modernità, nel mondo di Copernico, di Cheplero, di Galileo, di Newton, che dilatano in modo così inverosimile le dimensioni dello spazio, dal mondo chiuso all'universo infinito, nel mondo dell'inizio della modernità, così sconfinato nello spazio e però così ristretto nel tempo, un tempo di 6000 anni, 4000 avanti Cristo, di 6000 anni, vi era posto solo per una unica origine, non per le origini. L'universo, il sole, la terra, la vita, gli animali, gli esseri umani avevano avuto un'unica origine, erano venuti in essere con un unico atto, erano coevi nella loro origine, insieme erano nati, si erano originati, l'universo, il sole, la terra, la vita, gli animali e l'umanità. Proprio questa visione cosmologica viene infranta dalla scoperta del tempo profondo, è la seconda storia, e viene infranta questa visione cosmologica, viene infranto il tempo chiuso, il tempo limitato nella cornice dei 6000 anni, con un fragore paragonabile a quello del crollo delle sfere celesti. Non solo viene decentrato in una posizione marginale il luogo di abitazione della natura, del cosmo, dell'uomo, ma viene anche marginalizzato il luogo dell'uomo nel tempo, nella storia della natura. Il tempo del mondo certo si dilata, e già alla fine del settecento, ma dopo due secoli, quindi che si erano dilatate le dimensioni spaziali, però Buffon, uno dei primi grandi naturalisti, supererà la soglia del milione di anni, dai 6000 anni e il milione di anni della storia naturale, della storia della vita. Ma soprattutto si inizia a concepire, dalla fine del settecento all'inizio dell'ottocento, che vi è stato un tempo in cui vi era un universo senza terra, che vi è stato un tempo in cui vi era una terra senza vita, che vi era stato un tempo in cui vi era una vita senza specie animali, e un tempo in cui vi erano specie animali senza che la specie umana esistesse. E ognuna di queste origini pone in maniera differente il problema del ruolo creatore del tempo, cioè dall'atto creativo puntiforme e recente, 6000 anni fa, si passa alle storie molteplici della natura, con calendari, cronologie diverse. L'indagine sulle origini mette in evidenza processi, non atti di creazione puntiformi, fuori dalla storia, ma processi protratti nel tempo, e per nulla lineari, ma pieni di svolte, di disarmonie, di tendenze, di controtendenze che si contrastano fra di loro, storie incerte, non prevedibili. A partire dal 600 e con grande intensità nel corso di tutto il 700, di fatto si moltiplicarono, con l'aiuto anche di alcuni terremoti, gli indizi del fatto che la natura aveva avuto davvero una storia, non era nata tutta fatta attraverso un atto immediato, cioè senza la mediazione del tempo. Emergono resti fossili di specie scomparse, che poi chiameremo mammut, dinosauri, che i naturalisti non sapevano classificare nelle classi, nelle forme, delle specie viventi esistenti. Emergono segni di gigantesche inondazioni, depositi di antichi ghiacciai. Insomma, alla fine del 700 anche il filosofo Immanuel Kant e il matematico Pierre-Simon de Laplace concordarono nel proporre anche un primo modello scientifico della genesi del sistema solare e del nostro stesso pianeta, la Terra. E poi nel 900 l'idea di storia naturale, cioè l'idea che la natura ha avuto una storia, venne stesa persino all'universo nel suo complesso, anche l'universo si riconosce ha avuto una storia. E le questioni delle origini toccarono così tempi ancora più remoti, come vedremo. Di queste questioni il Big Bang è una frontiera importante, ma non è la frontiera ultima. I cosmologi oggi non ritengono il Big Bang che origina presumibilmente il nostro universo come l'origine dell'universo Tukur, ma ci lascia intendere l'esistenza di universi che hanno preceduto il nostro universo e di universi paralleli al nostro universo. Così sono diventate correnti datazioni di ordini di grandezza sempre maggiori. Pensate, l'origine della specie umana è stata collocata nell'ordine di grandezza non dei 6.000 anni, ma delle centinaia di migliaia di anni. L'origine dei primati, cioè delle specie umane ominide, del ramo evolutivo a cui la nostra specie appartiene, cioè di altre specie umane, nell'ordine di grandezza dei milioni di anni. L'origine dei mammiferi e degli animali nell'ordine di grandezza delle centinaia di milioni di anni. L'origine della vita sulla Terra, l'origine della Terra, l'origine del sistema solare, del nostro sistema solare, nell'ordine di grandezza dei miliardi di anni. E questo nel volgere di poche generazioni. Voi pensate che tutto sommato, non solo il senso comune, ma nella comunità scientifica dei nostri bisnonni, dei nostri trisnonni, questi ordini di grandezza non erano neppure immaginabili. Quindi una discontinuità nella storia dell'immaginario umano di se stesso, nel modo di immaginare e collocare il posto dell'uomo della natura, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, incommensurabile con gli immaginari precedenti. In questa esplorazione del tempo profondo non è dubbio che l'opera che ha costituito il punto di climax è stata l'opera di Charles Darwin, con la pubblicazione in particolare nel 1859, poche generazioni fa rispetto alla nostra, dell'origine delle specie. Darwin fu il primo infatti a sostenere cosa? Che tutte le forme viventi, per quanto diverse oggi possano apparire, discendono da un unico antenato comune. E voglio notare che questa sua affermazione di principio, di principio teorica, basata su quello che lui definì un lungo ragionamento, è stata empiricamente confermata soltanto alla fine ancora del ventesimo secolo, alla fine del novecento, quando gli sviluppi della genetica, di cui vi parlerà il professor Boncinelli poi, ci hanno consentito di tracciare alberi genealogici molecolari. Ma Darwin arrivò a questa sua affermazione di principio, che tutti gli esseri viventi derivano da un unico essere vivente originario, arrivò a questa sua affermazione proprio perché fu il primo a concepire che cosa? Che la natura ha una storia, una vera idea di storia naturale, cioè che la storia è capace di creare forme viventi nuove. La concezione evoluzionistica darwiniana ha posto le basi di una rivoluzione epistemologica radicale nella storia del pensiero occidentale, senz'altro la più radicale nella storia del pensiero scientifico e filosofico occidentale. Darwin ha delineato un capovolgimento, chiamiamolo ontologico, nel modo di concepire le relazioni fra le forme e la storia, le forme, quelle che Platone chiamava le eide, le essenze e la storia. Per la concezione evoluzionistica il progetto dell'universo vivente non è dato in anticipo dal creatore, ma il progetto stesso diviene continuamente sulla base delle relazioni che connettono e che trasformano gli attori di questo stesso universo, cioè attraverso la storia. Mentre la storia del vivente, anche nella comunità scientifica dell'età darwiniana, metà ottocento, si pensava che si realizzasse nella storia realizzando in modi perfetti e variabili delle esistenze, però nella cornice di ciò che era inventariabile, era inventariato in modo esaustivo, definitivo, perfetto, compiuto da alcune poche essenze, forme, le specie, i generi, eccetera, eccetera. Bene, la storia della vita per Darwin non avviene nella cornice invalicabile di essenze eterne, atemporali, che la precedono e che non mutano e che non possono essere messe in discussione dall'evoluzione storica delle forme di vita effettive. La storia della vita è essa stessa il grande laboratorio nel quale emergono le forme viventi. E il titolo stesso, così apparentemente innocuo al nostro senso comune del libro spartiacque di Darwin, l'origine delle specie, al senso comune del tempo di Darwin, era un'espressione quasi inconcepibile, impensabile, come dire l'origine delle specie, l'origine delle essenze, l'origine delle forme, che per definizione invece erano pensate non avere un'origine e una storia, ma che erano loro stesse all'origine di quelle realtà variabili, mutevoli della storia che sono i singoli organismi viventi. Per questo nella storia naturale da inizi molto semplici si è giunti a forme così complesse, ma non perché queste forme di vita così complesse fossero progettate all'inizio, ma perché il mondo vivente è ricco di varietà individuali e di relazioni fra queste varietà. Gli ecosistemi dunque, e qui mettiamo un primo punto fisso, gli ecosistemi non sono contenitori, contenitori di forme viventi invarianti, che non mutano. Gli ecosistemi sono essi stessi il modo con cui queste forme viventi si producono e sono l'esito il risultato della produzione di queste forme viventi. E questo vale anche per la produzione di quelle particolari forme viventi che sono le società umane, le culture umane. Bene, fino a tempi molto recenti la visione della storia umana, della nostra storia, era ancora imprigionata da una costruzione teorica, dalla costruzione teorica che si era in particolare consolidata all'inizio dell'Ottocento e che individuava nella storia umana, già dilatata dalle scoperte dei naturalisti, che individuava nella storia umana, cioè nella storia di Homo sapiens, un grande spartiacque, uno spartiacque fra la preistoria da un lato e la storia in senso proprio, lo spartiacque fra società primitive da una parte e società civilizzate dall'altra. Insomma, la storia umana, ancora fino a tempi assai recenti, nel Novecento, benché fosse stata dilatata oltre i 6.000 anni del prima di Darwin, tuttavia era concepita così, si concepiva che ancora solo in quei 6.000 anni, in buona sostanza dai sumeri in poi, si continuava a concepire che fossero compresse le esperienze umane giudicate più significative e mature dal punto di vista del presente. Prima vi sarebbero state solo le brume di un lungo periodo di faticoso apprendistato, in cui una mente preistorica, primitiva, ancora immatura, sarebbe andata a tentoni, in attesa di scoprire se stessa. Metto in discussione questa concezione attraverso una riflessione sulla nozione di ecosistema. Le scoperte degli ultimi decenni sulla storia umana, e vadate, sono scoperte condotte da un intreccio di scienze, di discipline, spesso anche nuove, dalla nascita recente come la genetica, la genetica di popolazioni, la linguistica, l'archeologia, l'antropologia, la mitologia comparata. Ecco, le scoperte degli ultimi decenni sulla storia umana sono davvero molto importanti per noi, soprattutto perché hanno trasformato alla radice la nostra visione della storia di Homo sapiens, della storia umana, e la nostra visione della identità umana, dell'identità di Homo sapiens. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto certo che di umanità non ce n'è stata una sola, eventualmente una sola umanità che via via si sarebbe perfezionata attraverso i millenni, attraverso un processo, un progresso, un processo lineare e inevitabile. Almeno quattro forme di umanità si sono succedute e si sono intrecciate nel corso della nostra specie, sapiens. E peraltro, lo dico fra parentesi, se noi prendessimo in esame, non solo come faccio io oggi, la nostra specie, sapiens, negli ultimi 150.000 anni, ma la storia di tutte le specie umane, cioè della famiglia degli ominidi, negli ultimi milioni di anni, potremmo inventariare diverse forme di umanità, distinte fra di loro. Però rimaniamo al caso della nostra umanità, sapiens, di Homo sapiens. Nella nostra storia, nella storia della nostra sola specie, che dura da circa 150.000 anni, le quattro umanità presentano modalità comportamentali e sociali, del tutto originali e distinte fra di loro. E le quattro umanità, soprattutto per ciò che ci riguarda oggi, presentano modalità di relazioni con l'ambiente, con gli ecosistemi, altrettanto singolari e distinte le une dalle altre. Tutta la storia di Homo sapiens è la storia di una radicale inversione di senso, di capovolgimento del senso delle relazioni, diciamo, degli animali con gli ecosistemi, degli esseri viventi con i loro ecosistemi. Fino ad Homo sapiens, l'ambiente era sempre stato il grande motore di sviluppo delle specie animali. Le specie animali erano costrette a trasformarsi per adattarsi all'ambiente. E questa relazione ha continuato a valere, con la predominanza dell'ambiente sulla specie vivente, anche per i nostri antenati umani ominidi. Invece, finalmente, alla fine, Homo sapiens è diventato lui stesso il grande motore della trasformazione degli ecosistemi. Oggi è la natura a doversi adattare alla cultura umana. Lasciatemelo dire con questo slogan. Oggi è la natura a doversi adattare alla cultura umana. Quella che noi chiamiamo globalizzazione, e spesso se ne parla in modi davvero molto banali, quella che noi chiamiamo globalizzazione, è appunto la fase più acuta di questo processo di inversione del senso dei rapporti fra le specie e gli ecosistemi. In questa fase la specie umana ha infranto tutte le barriere fra gli ecosistemi locali e ha interconnesso fra di loro tutti gli ecosistemi locali della biosfera, della terra, e li ha interconnessi in un unico ecosistema globale che oggi è plasmato quasi in ogni dettaglio dalla artificializzazione tecnologica. Già dalle origini della storia della nostra specie, peraltro, i germi di questa grande inversione sono presenti. Questa inversione poi è il filo conduttore che segnerà con un'accelerazione sempre più intensa le varie età, le varie umanità della vicenda di Homo sapiens. Homo sapiens non solo è in grado di approfittare dei tratti specifici degli ecosistemi, ma ne diventa degli ecosistemi il grande demiurgo. Ma quali sono queste quattro umanità? Sono queste. E le conosciamo perché bene o male le abbiamo studiate, le vediamo, sono nella divulgazione. Il problema è di comprenderne il senso antropologico, il senso epistemologico. La prima umanità è l'umanità dei cacciatori raccoglitori. È l'umanità che si origina con la nascita biologica della nostra specie 150.000 anni fa, in un piccolo luogo del mondo, la savana dell'Africa centro-meridionale. È l'umanità, peraltro, che prevale per più dei nove decimi della nostra storia, cioè da circa 150.000 anni fa a circa 10.000 anni fa. La storia dell'identità umana, la storia umana sulla Terra, è per i nove decimi la storia di umani che sperimentano un rapporto con gli ecosistemi da cacciatori raccoglitori, da 150.000 anni fa a 10.000 anni fa. Vedete, questa prima umanità, lo sappiamo, è basata sulla caccia di mammiferi, anche di grandi dimensioni. È un'umanità che è un prodotto diretto dell'acquisizione da parte della nostra specie di un linguaggio ad alta complessità, con un grande potere generativo, con tutte le conseguenti ricadute nelle capacità comunicative e nella coesione sociale di questa prima umanità. Rispetto a questa umanità è ancora l'ambiente a predominare, e più nemmeno che nella storia di milioni e milioni di anni precedenti delle specie animali e anche delle specie umane e gominidi. Ognuna delle piccole popolazioni nomadi in cui allora era frammentata l'umanità è strettamente dipendente da un ecosistema locale specifico in cui quella popolazione si insedia e in cui deve sviluppare conoscenze adeguate persino dai minimi dettagli del proprio ecosistema, per sfruttare al meglio le risorse che l'ecosistema locale può offrire. Questi adattamenti locali, e molto creativi peraltro, locali perché strettamente legati alle caratteristiche specifiche di singoli luoghi, di ristretti ecosistemi in cui è insediata una popolazione, sono alla base di ciò che noi oggi chiamiamo le culture. Ecosistemi diversi che richiedono adattamenti creativi locali, raffinatissimi, ma completamente separati dagli altri, sono all'origine delle differenze culturali. La seconda umanità, come sapete, è l'umanità agricola. Questa umanità ha avuto origine con le prime coltivazioni e i primi centri urbani nel Medio Oriente circa 10.000 anni fa. Nel volgere di poche generazioni questa seconda umanità ha effettuato vere e proprie operazioni di ingegneria genetica. Queste operazioni di ingegneria genetica hanno saputo moltiplicare le dimensioni delle piante coltivate e hanno fatto assumere a loro, alle piante coltivate, caratteristiche decisive per una valida utilizzazione nutrizionale. Ecco, in questa forma, in questa seconda forma di umanità, gli esseri umani sono più numerosi, molto più numerosi. Le loro popolazioni tendono a espandersi, cooperano o entrano in competizione le une con le altre. Ciò che non avveniva nei nove decimi della storia dell'umanità, della prima umanità precedente. L'incontro, confronto, scontro con le altre culture, con le altre società, diverse, altre, l'alterità, in veste pacifica o in veste bellica, inizia a diventare un elemento insito anche nella vita quotidiana degli individui e delle collettività. Ed è allora, in questa seconda umanità, che ha luogo una transizione irreversibile, di straordinaria importanza dal punto di vista della storia del posto dell'uomo della natura, della storia degli ecosistemi, da un punto di vista antropologico e epistemologico, cioè dal punto di vista di come l'uomo conosce la natura per adattarsi alla natura. Questa transizione dal locale, dall'adattamento locale, tende verso dimensioni sempre più globali. La condizione stanziale rende infatti possibile l'espansione demografica delle popolazioni e la colonizzazione dell'ambiente su vasta scala. Ma con questa seconda umanità accade di più. Spesso gli equilibri di una società sono precari, e sono precari perché la crescita demografica che caratterizza questa seconda umanità è sovente incontrollabile e conduce a periodiche situazioni di scarsità di risorse a causa della crescita rapida della popolazione. Così gli equilibri sono garantiti soltanto grazie alla espansione territoriale. E in questa espansione territoriale l'altro diventa una risorsa da depredare per mantenere il proprio benessere o per mantenere le relazioni costitutive della propria società e della propria cultura. Però, vediamo bene, questo altro non sono solo le altre popolazioni umane. Questo altro comincia a diventare anche, in un altro modo, inedito, qualitativamente inedito, anche l'ambiente naturale. L'ambiente diventa un ambiente da conquistare, da dissodare, da trasformare perché possa essere inserito nelle proprie relazioni e nei propri cicli sociali, economici e simbolici. E' questa una straordinaria, forse la più straordinaria rivoluzione antropologica ed epistemologica mai avvenuta nella storia umana. Ancora di più di quella che stiamo dipendente dalla rivoluzione agricola. Prende così via l'età Questo è un altro puntello che metto Prende così via l'età dei giochi a somma zero, a somma nulla. Vinco io? Perdi tu. Vinci tu? Perdo io. Un gioco inedito per i nove decimi della storia umana sulla Terra. Cioè, vi è sempre qualcuno che perde, che paga il peso del successo di qualcun altro. All'interno di una società c'è il diverso, il capro espiatorio. All'esterno di una società c'è il nemico, lo sconfitto, conquistato, depredato per la propria sopravvivenza. Ma sempre di più anche l'ambiente entra in questo gioco di ruoli, entra in modo paradigmatico in questo gioco. Anche la natura, le metafore di sfida della natura, di soggiogamento della natura cominciano a diventare molto significative. E alla fine hanno condotto, anche in questa seconda umanità, all'oblio strutturale della dipendenza umana dal buon funzionamento dei cicli ecosistemici locali. Ecco, terza umanità. Questo paradigma dei giochi a somma nulla continua a governare anche le fasi di sviluppo della terza umanità. Qual è la terza umanità? La terza umanità è l'umanità moderna, quella che prende le mosse dall'incontro colombiano del 1492. Qui l'impatto umano sull'ambiente diventa di gran lunga più elevato, sul piano quantitativo e sul piano qualitativo. Alla priorità originaria di conformare gli ecosistemi per le proprie esigenze alimentari, quella della seconda umanità, diciamo da diecimila anni fa a cinquecento anni fa, fa seguito alle soglie della rivoluzione industriale la priorità di estrarre e di bruciare i combustibili fossili. Prima il carbone, poi il petrolio, naturali. Questa strategia ha funzionato e ha funzionato però finché il pianeta, almeno allo sguardo corto degli individui e delle popolazioni, poteva apparire una estensione sconfinata e illimitata, sostanzialmente inesauribile. Ma nel ventesimo secolo, il nostro secolo, della nostra nascita, delle nostre radici, l'orizzonte si è chiuso. Si è chiuso su se stesso. E si è chiuso con una rapidità e con una irreversibilità al di là di ogni possibilità di controllo. Guardate che fino al 1492 la specie umana, Homo sapiens, era una specie globale, occupava tutte le parti emerse importanti del pianeta, ma le occupava attraverso una sostanziale separazione di ecosistema da ecosistema. Erano popolazioni localizzate in sotto ecosistemi locali. Era una globalizzazione diasporica, per diaspore, per separazioni delle culture e delle popolazioni umane. Nel 1492 nasce una seconda globalizzazione che poi è la nostra. La nostra globalizzazione, quella che noi da vent'anni chiamiamo globalizzazione, è un'accelerazione della globalizzazione inauguratasi nel 1492, quando Cristoforo Colombo, pensando di arrivare alle Indie di qua invece che di là, scoprì non l'America, non l'America, che evidentemente era già stata scoperta da esemplari di Sapiens, perché ve li trovò, ma scoprì la Terra e inaugurò la seconda globalizzazione intesa non come semplice occupazione e abitazione di tutte le terre emerse del pianeta da parte di popolazioni di Homo Sapiens, ma la globalizzazione per interconnessione irreversibile fra tutte le tribù e tutti gli ecosistemi della Terra. Questa è la terza umanità. E nel XX secolo questa interdipendenza fa sì che l'orizzonte planetario si chiude su se stesso, con una rapidità e una irreversibilità, al di là di ogni possibilità di controllo. Vedete? L'influenza esercitata dalle attività, chiamiamole economiche in senso lato umane, sulla evoluzione degli ecosistemi, segna una discontinuità importante nell'intera storia naturale. Una discontinuità nell'intera storia naturale. Ed è per questo che per definire questa discontinuità nella storia della natura, a causa dell'impatto divenuto potente attraverso la terza umanità sull'evoluzione degli ecosistemi, abbiamo inventato un nuovo termine per definire una nuova età nella storia naturale, che potremmo persino fare cominciare dall'inizio dell'Ottocento. antropocene definiamo questa nuova età della storia naturale, appunto per indicare l'età nella quale l'influenza umana, Homo sapiens, sull'ambiente, sugli ecosistemi, diventa macroscopicamente evidente. E l'indice più evidente, più stringente di questa nuova età, consiste nell'alterazione della composizione chimica dell'atmosfera. La sempre maggiore rilevanza assunta dalle tecnologie nel corso dello sviluppo di questa terza umanità, quindi ultimi 500 anni, prima umanità da 150.000 anni fa a 10.000 anni fa, seconda umanità da 10.000 anni fa a 500 anni fa, terza umanità ultimi 500 anni, ecco questa sempre maggiore rilevanza assunta dalle tecnologie nel corso della storia della terza umanità diffuso l'illusione che la specie umana si sarebbe definitivamente affrancata dalla natura. Pensate questo pensiero attorno al quale anche la filosofia ha riflettuto non poco e con essa l'antropologia, la sociologia, ma non è stato così. Questo è un punto di riflessione antropologica, filosofica decisivo. Le popolazioni umane, certo, sono sempre più interconnesse e quindi sono sempre più indipendenti dai loro ecosistemi, indipendenti dai loro ecosistemi locali di origine, di partenza o di abitazione. Ma oggi la sopravvivenza di tutta quanta la specie umana è strettamente dipendente dal buon funzionamento di un unico immenso ecosistema globale che coincide con la terra intera, con la biosfera intera. In questo grande ecosistema globale le relazioni cooperative e conflittuali fra innumerevoli specie animali, vegetali, batteriche mantengono condizioni ambientali adatte per la fioritura della vita, certo, nel suo complesso. Ma oggi adatte in particolare per la fioritura della vita umana, compatibili con la fioritura della vita e della storia umana. E questa è la sfida ineludibile che definisce, infine, la quarta umanità. Questa quarta umanità è forse, forse, sul punto di nascere. Noi ne siamo protagonisti per il semplice fatto che in questa agora ne stiamo riflettendo e nella riflessione ne siamo in qualche modo le levatrici. La quarta umanità è la prima, è la prima che è consapevole del tempo profondo. Siamo i primi ad essere consapevoli della profondità temporale della storia umana, 150.000 anni, ma preceduti da milioni di anni di evoluzione delle specie umane ominidi. Questa quarta umanità è la prima che ha una decisiva responsabilità nei confronti della natura. Il fine in sé dell'etica kantiana per noi che siamo la quarta umanità significa non soltanto il tu, l'altro, prossimo, peraltro, nello spazio e nel tempo, ma anche la natura entra nella sfera della responsabilità umana per adempiere a quel fine in sé che è il bene dell'uomo. Quindi, antropocentrismo o non antropocentrismo? È dal punto di vista umano che noi ci facciamo carico del non umano. E questa è la fine del vecchio antropocentrismo, ma è come dire è la signoria di un antropos che allarga i confini della propria responsabilità a quell'alterità radicale che è anche la natura che fino a poco tempo fa era concepita come una vergine da violentare. E quindi è la prima umanità, la quarta umanità che per la sua sopravvivenza deve pensare e la dico così fra filosofi insieme e non come contrapposti l'uno e il molteplice l'identità e la diversità sia culturali che naturali. E ci arrivo a concludere. Vediamo che cosa ci dice la storia delle quattro umanità. Questa storia, nel suo complesso, ci racconta che la crisi, lo squilibrio, l'inadeguatezza fra paesaggi mentali ed eventi storici sono consostanziali all'esperienza umana. La nostra specie non ha mai posseduto una saggezza preventiva rispetto alle conseguenze delle sue innovazioni. Piuttosto ha dovuto imparare a sue spese i nuovi limiti e le nuove possibilità in cui insediarsi. Ma ciò che rende inediti, cioè radicalmente nuovi, mai vissuti e concepiti prima, i problemi affrontati dalla quarta umanità sta nel fatto che in passato le distruzioni arrecate all'ambiente dalle tecnologie e dai modi di vita umani erano confinati a dimensioni locali, ristrette, precise. Cioè, se una popolazione depredava eccessivamente il suo habitat, come nella seconda e nella terza umanità, vuoi con la caccia, l'agricoltura, con lo sviluppo industriale, tanto peggio per questa popolazione, ma entro certi limiti solo per questa popolazione, solo per questo ecosistema. Anzi, l'imperizia di una popolazione poteva persino essere l'occasione del successo di un'altra popolazione. Ma oggi, dinanzi al riscaldamento globale, dinanzi alla prospettiva di esaurimento della risorsa dei combustibili fossili, dinanzi all'overfishing di tutti i mari del pianeta, non possono essere tracciati confini netti e rassicuranti fra ecosistema ed ecosistema, fra popolazione e popolazione. L'imperizia e la sconfitta di taluni esseri umani contribuiscono all'imperizia e alla sconfitta, tutte e due, all'imperizia e alla sconfitta di tutti quanti gli esseri umani. Negli ultimi secoli e sempre di più nel corso degli ultimi decenni la specie umana ha perturbato oltre il dovuto non solo molteplici aspetti degli ecosistemi locali ma anche e soprattutto l'ecosistema globale che è l'esito del fatto che la specie umana stessa ha contribuito a interrompere le barriere fra gli ecosistemi locali ed è venuto in essere questo ecosistema globale proprio attraverso il crollo di questo ecosistema. bene la terza umanità aveva agito in modo da omologare e soprattutto da ridurre la diversità della vita nel suo complesso noi sappiamo che ogni anno vanno per sempre perduti perché estinti i patrimoni genetici di molte specie animali e vegetali e si infrangono i delicati equilibri di molti ecosistemi locali la questione cruciale allora che ci pongo è la seguente queste perturbazioni a parte importanti dell'ecosistema globale finiranno prima o poi per colpire irreversibilmente il funzionamento complessivo dell'ecosistema globale io rispondo così probabilmente no probabilmente no l'ecosistema globale possiede infatti enormi capacità di resilienza di resistenza di autoriparazione ed è molto difficile che la sua esistenza venga irreparabilmente compromessa dagli atti della specie umana però è molto probabile che questi atti della specie umana finiscano col modificare proprio quelle condizioni dell'ecosistema globale che fino ad oggi hanno consentito l'esistenza e la fioritura della nostra specie e questo potrebbe aprire la strada a nuovi equilibri dell'ecosistema globale forse propizi per altre forme di vita ma certo non favorevoli alla sopravvivenza della nostra specie allora queste quattro umanità non si succedono secondo una progressione un progresso lineare inevitabile per questo le chiamo quattro umanità non sono lo sviluppo come potrebbe avvenire nello sviluppo dell'essere umano dalla nascita all'età adulta ci sono tre quattro cinque età della vita però non si succedono queste quattro umanità secondo un progresso lineare inevitabili ognuna di queste umanità segna una discontinuità rispetto alla precedente e nuove sono le tendenze di sviluppo e le potenzialità come dire definite da ciascuna di queste umanità l'umanità che precede non è condizione inevitabile per l'umanità che succede le cose potevano andare in un altro modo e fare emergere un'altra umanità noi siamo in grado di spiegare ex post a posteriori sulla base degli eventi storici effettivamente accaduti nella storia umana come e perché queste tendenze di sviluppo e queste potenzialità umane siano venute in essere ma non sapremmo né potremmo dedurle necessariamente da alcuna idea di natura umana e fissa e invariante vince Darwin la storia è creatrice di forme inedite nuove non necessariamente deducibile dal passato le quattro umanità sono certamente interconnesse ma solo in forma debole ognuna nasce sotto il segno dell'imprevisto e dell'improbabile concludo non è il compimento non è la perfezione è la singolarità è la singolarità che segna la storia e l'identità umana e questo per molteplici aspetti enuncio semplicemente quattro singolarità dell'umano che ci possono aiutare a far concepire a noi stessi la nascita di una quarta umanità la prima singolarità di Homo sapiens è proprio la sua costitutiva incompiutezza alla fine del processo di ominizzazione nasce nasce un incompiuto che è Homo sapiens Homo sapiens non è il perfezionamento delle specie umane ominidi che l'hanno preceduto è la più incompiuta è la più incerta è la più disadattata lo vediamo osservando il bebè dell'umano e il bebè di qualunque altro animale noi nasciamo facendo l'esperienza della mancanza del disadattamento nasciamo come embrioni feti nati prima del tempo privi e privati di ogni autonomia non è nel segno della compiutezza della perfezione che nasce neanche Homo sapiens come specie il nostro patrimonio mentale e biologico non ci stabilizza in un ambito di possibilità fisso e limitato come avviene per la condizione animale al contrario il nostro patrimonio biologico e mentale ha aperto l'accesso a uno spettro di possibilità eterogene molteplici disparate di cui in ogni caso non si scorge alcun indizio di prossimo esaurimento la condizione umana non è un destino segnato da una storia già scritta la condizione umana è un'invenzione continua che si fa si disfa in occasione di tappe svolte che possono annullare le tendenze prevalenti e che sembravano le più probabili da doversi realizzare in un dato momento e possono fare emergere nuove tendenze che potevano apparire improbabili o addirittura non erano neanche state concepite ma che sono altrettanto compatibili con la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio biologico e mentale c'è una seconda singolarità di Homo Sapiens che ci può aiutare in questa gestazione di una quarta umanità la seconda singolarità di Homo Sapiens se paragonato a tutte le altre specie animali è il fatto che Homo Sapiens è una specie globale è l'unica specie vivente ad essere diffusa in tutta la biosfera su tutto il pianeta terra la specie Homo Sapiens ricordiamolo è nata come specie locale adattata alla sopravvivenza in un ecosistema molto particolare la savana dell'Africa centro meridionale ma in pochissimo tempo e ancora più pochissimo se paragonato alle dimensioni temporali del tempo profondo anche solo della storia ominide con le solo tecnologie dovute alla deambulazione bipede la ritroviamo attraverso popolazioni diverse in tutti gli ecosistemi di terre emerse di tutto il pianeta in poche migliaia di anni è la prima umanità quella dei cacciatori raccoglitori che hanno come unica e qualche zatterina che noi non utilizzeremmo mai però diventa globale la specie Homo Sapiens attraverso raffinatissime strategie di adattamenti locali ad ecosistemi molto diversi molto distanti non solo geograficamente ma anche ecologicamente dall'ecosistema delle sue origini la savana ed è solo poi dopo millenni che queste popolazioni questi ecosistemi nella terza umanità si ricongiungeranno e produrranno attraverso la rottura delle barriere fra gli ecosistemi locali quella inversione dalla diaspora all'integrazione che è la condizione globale attraverso la quale noi definiamo la condizione ma umana umana oggi e questa è una singolarità straordinaria ma terza singolarità la terza singolarità è complementare alla seconda questa grande diaspora che ha fatto sì che Sapiens nata locale diventa globale ma che ha fatto sì che popolazioni per decine di migliaia di anni hanno vissuto separate sostanzialmente l'une dalle altre non ha dato adito a sottospeciazioni cioè alla divisione stabile fra sottospecie umane disaccoppiabili fra di loro non più appartenenti all'unica specie la specie umana pure globale pure fatta da diversità definite dagli ecosistemi differenti della biosfera ha mantenuto la sua sostanziale unità e identità di specie cioè non ha condotto a processi irreversibili di speciazione e questo perché le popolazioni umane anche in età in cui gli spostamenti erano molto difficili seppure in modo liminale hanno sempre mantenuto una comunicazione fra di loro per le eleanze matrimoniali esogamiche o per i commerci di manufatti e dei dè cioè le popolazioni umane si sono sempre contaminate e questa unità nella diversità unità nella diversità unità multiplex è stato il più potente motore di sviluppo delle grandi innovazioni non solo tecnologiche ma anche culturali nella storia umana e questa capacità di nutrire la sua unità attraverso la diversità e di nutrire e difendere la sua diversità attraverso l'unità di specie vedete come è implementata nella storia dell'umanità questa concezione epistemologica filosofica così straordinariamente sfidante in questa nostra irreversibile età globale ma infine e qui su questo concetto chiudo oggi la specie umana è segnata da una quarta singolarità altrettanto importante la specie umana sapiens noi qui quello che stiamo facendo qui è in grado di riflettere sulla propria identità e sulla propria storia come condizione per accedere a un futuro vivibile cioè la storia umana ha un forte impatto sul nostro presente sembra ancora subire però la specie homo sapiens una coazione a ripetere le strategie di colonizzazione e di dominio dell'ambiente del passato anche recente in particolare della seconda e della terza umanità oggi la distruzione di molte fonti della diversità culturale e biologica rischia però di risultare direttamente antievolutiva sia nei confronti dell'ecosistema globale sia nei confronti della sopravvivenza della specie umana dinanzi alla drammaticità dei problemi attuali è urgente che ci interroghiamo sulle possibili origini di questa coazione a ripetere i giochi a somma zero bene negli stadi più antichi del processo di ominizzazione l'appartenenza a piccoli gruppi potrebbe avere conferito un vantaggio superiore rispetto a quello ottenibile con l'affrontare il mondo individualmente così l'evoluzione umana sia l'evoluzione biologica umana che quella culturale avrebbe valorizzato i meccanismi di coerenza di chiusura interna fra i gruppi a tutto scapito dei meccanismi di interazione fra gruppi e anche di interazione dei gruppi con l'ambiente l'umanità dei nostri giorni potrebbe essere dunque vittima di un effetto secondario di un processo evolutivo innescato da condizioni ambientali che non sono più attuali per l'azione stessa dell'uomo che ha rotto le barriere fra gli ecosistemi locali e quindi saremmo vittime di una sorta di retaggio di ciò che ha funzionato in passato per produrre il mondo l'ecosistema come oggi ma che non può più governare come diceva Einstein il pensiero che produce il mondo non sarà in grado di governare il mondo che ha prodotto ora la quarta umanità l'umanità dell'età globale è sulle soglie quindi potremmo dire di un'ulteriore evoluzione necessaria una vera e propria riumanizzazione cioè si trova ci troviamo nella necessità nella condizione di ripensarsi non più attraverso le contese fra piccoli gruppi coesi ma attraverso la moltiplicazione delle connessioni che dal singolo individuo portano a un'unica totalità planetaria attraverso molteplici collettività di natura e di portata disparata la quarta umanità si trova così nella condizione direi nella necessità per la sua sopravvivenza di immaginare giochi inediti che non ha mai giocato giochi a somma positiva vinco io vinci tu vinci tu perché vinco io più o meno coevolutiva la rete dei saperi e delle esperienze che sta emergendo può consentire alla nostra specie di apprendere ad essere veramente globale a legarsi cioè con nuove relazioni sostenibili con l'insieme degli ecosistemi e soprattutto a saper valorezzare il potenziale creativo delle diversità biologiche e culturali l'antico umanesimo il primo umanesimo di cui siamo stati patria filosofica ha prodotto un universalismo straordinariamente grande universalismo astratto però ideale culturale il nuovo umanesimo dell'età globale dell'uomo planetario dell'ecosistema globale sarà prodotto da un universalismo concreto un universalismo reso concreto dalla irreversibile comunità di destino che ormai lega tutti gli individui e tutti i popoli dell'umanità intera fra di loro e che lega l'umanità intera all'ecosistema globale alla terra in un destino comune questo universalismo concreto non può più opporre la diversità biologica o culturale all'unità il singolare al generale si basa questo universalismo concreto sul riconoscimento dell'unità delle diversità umane e delle diversità dell'unità umana e nello stesso tempo anche sul riconoscimento dell'unità dell'ecosistema globale entro la diversità degli ecosistemi locali e della diversità degli ecosistemi locali entro l'unità dell'ecosistema globale ecco trasformare il dato di fatto irreversibile lo vogliamo o non vogliamo della interdipendenza planetaria di tutte le culture e di tutti gli ecosistemi nel compito di costruire una civiltà della terra dell'oicos comune dell'uomo planetario nel compito cioè di concepire una nuova evoluzione antropologica e cognitiva verso la convivenza e la pace perché questo è il nome dei giochi a somma positiva è il compito difficile oggi improbabile ma ineludibile dell'antropologia della politica della filosofia levatrice della quarta umanità grazie grazie